In Piemonte, nell'anno della tragedia della Thyssen, il 2007, si sono contati 105 morti sul lavoro, l'anno scorso 116. Nello stesso lasso di tempo, gli incidenti sul lavoro, mortali e non, sono diminuiti. Siamo scesi dai 73.000 casi del 2007 ai 42.000 del 2021. I numeri quindi restano alti, soprattutto se si considera che molti incidenti sul lavoro vengono tenuti nascosti, particolarmente nell'ambito del lavoro in nero. Uno dei settori più a rischio è quello dell'edilizia. La caccia al bonus e al super bonus sta facendo crescere ponteggi come funghi, dove spesso manca però mano d'opera qualificata e quindi si rischiano infortuni perché molto del personale non ha contratto di lavoro del settore edile, quindi non fa una formazione preventiva prima di salire di un ponteggio. Sotto la lente di ingrandimento è anche l'agricoltura. Dove magari il mancato rinnovamento dei mezzi agricoli causa tante morti, il classico è il caso dei ribaltamenti dei trattori, dove c'è anche un'alta percentuale di caporalato, c'è stato anche il processo acuneo con le condanne di un anno fa che ha dimostrato che ci sono tanti lavoratori non assunti regolarmente e che magari subiscono infortuni che non denunciano neanche. Secondo Quirico la svolta è possibile partendo da tre elementi. Bisogna lavorare quindi sui controlli, sul corretto inquadramento dei lavoratori e delle lavoratrici e soprattutto lavorare anche già nelle scuole per cominciare a sensibilizzare ragazzi e ragazzi che saranno i datori di lavoro o i lavoratori e lavoratrici di domani.